Si è sentita male mentre si trovava su un autobus in zona stazione a Padova ed è morta al malore fatale domenica mattina. La donna, una settantenne, si trovava sul mezzo pubblico diretta a Busa di Vigonza per far visita ai suoi familiari. Durante il viaggio però improvvisamente si è sentita male. Immediata a quel punto la chiamata al 118 e le forze dell'ordine che sono accorsi sul posto. Inutili tutti i tentativi di rianimarla, la donna è morta sul colpo sotto gli occhi attoniti degli altri passeggeri.